Si è aperta davanti alla Corte Penale Internazionale dell'AIA la procedura avviata dall'Ucraina contro la Russia, accusata di sostegno al terrorismo per i presunti aiuti ai separatisti della Crimea. Kiev chiede ai giudici di compiere i passi preliminari per condannare Mosca e sospendere ogni sostegno ai separatisti. Tra i presunti atti di terrorismo sostenuti dalla Russia, l'Ucraina cita l'abbattimento nel luglio 2014 del volo MH17 con 298 persone a bordo mentre sorvolava l'Ucraina. Ora c'è attesa per capire l'orientamento dei giudici. Tutti i colloqui sulla questione della Crimea finiscono con dire che la Russia si comporta male ma che non ci sono le prove. Il Tribunale dell'AIA può risolvere questo impasse, il che darebbe all'Occidente una sorta di prova legale del fatto che la Russia sia l'aggressore, il presidente Putin, un tiranno. L'Ucraina accusa la Russia anche per l'annessione della Crimea nel 2014. A Sebastopoli però molti rivendicano l'appartenenza alla Russia. Vorrei che il mondo capisse che non c'è stata nessuna annessione, è stata la libera volontà degli abitanti della Crimea. Abbiamo voluto tornare a far parte della Russia e ci siamo battuti per questo. Credo che il Tribunale dell'AIA rispingerà le accuse ucraine. La pronuncia della Corte Penale Internazionale, inappellabile tale da generare conseguenze politiche e giuridiche, difficilmente potrà tuttavia avere un impatto sul piano del conflitto.